Presidente, una parte quindi dei fondi previsti per il masterplan rischiano di essere definanziati. La Regione ha studiato un rimedio, un provvedimento con il quale una parte di questi fondi vengono riassorbiti nella programmazione 2021-2027. La Regione avrebbe rischiato concretamente di perdere oltre 300 milioni di euro in opere pubbliche se non avesse fatto questa operazione di riprogrammazione. L'abbiamo fatta, abbiamo negoziato con il Governo, salvato tutti questi 390 milioni di euro di opere che altrimenti avremmo perso. Ne abbiamo trasferite una parte sulla nuova programmazione del prossimo ciclo 2021-2027, il che vuol dire che potranno essere completate e portate avanti e non si fermeranno un attimo perché i soldi per andare avanti con la progettazione di queste opere sono salvaguardati e restano in cassa. Quindi noi utilizzeremo subito queste risorse che non avremmo speso altrimenti perché sono finanziamenti fermi da anni e che altri anni sarebbero stati fermi in attesa che i cantieri avrebbero generato fatture, avrebbero generato spesa. Oggi invece c'è un grande bisogno di dare soldi alle famiglie, di dare soldi alle imprese per recuperare i soldi persi con il Covid, per recuperare il blocco delle attività economiche, la perdita di fatturato e di opportunità economica, la disoccupazione che si è creata. Quindi noi prendiamo soldi che stavano fermi, li spendiamo per dare questo ossigeno all'economia abruzzese e lo Stato ci garantisce la copertura di quei fondi sul prossimo ciclo di programmazione. Quindi non perdiamo una sola opera, non definanziamo niente, anzi quei soldi li recuperiamo nella prossima programmazione come risorse aggiuntive. Credo che sia un ottimo risultato per la Regione. Alcuni esponenti dell'opposizione al suo governo invece dicono che la Regione avrebbe tagliato alcuni finanziamenti, alcuni investimenti che riguardano alcuni progetti previsti nel masterplan. Cosa risponde? Sono gli stessi asini saccenti che hanno governato la Regione negli scorsi anni e hanno fatto trovare queste opere ferme al palo, al punto di partenza. Molte opere ancora ferme dal 2014, oggi siamo al 2020, a fine programmazione, ancora ferme ai piani di fattibilità. Raccontano bugie ai cittadini perché non hanno argomenti per alimentare il loro consenso e quindi è una bugia vera e propria perché, come ripeto, non c'è un solo euro che si perde, anzi ci vengono restituiti tutti quanti come aggiuntivi nella prossima programmazione. Vedere un partito politico il cui ministro firma questo accordo e loro vanno sui territori a raccontare bugie ai cittadini per alimentare tensione e per fare propaganda è spreggevole.